Eccomi, 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 buonasera amici amiche, rossoneri e vai ragazzuoli, ragazzuole belle, buona serata di questo sabato 2 settembre ore 19.13 2023 e buona domenica se mi vedi di 4 settembre 2023. Allora ragazzuoli, ragazzuole belle, il vostro Alex sta partendo per le vacanze, mi mancano poche ore per partire, vi dico subito che noi ci vedremo, ci rivedremo qui in video prima del derby contro l'Inter del 16 settembre, esattamente ci vedremo il 13 settembre sera, se non ce la faccio il 13 settembre sera perché il 13 è il giorno che ritorno, ci vedremo il 14 settembre ragazzi, ve lo dico subito, per cui siete avvisati. Questo video è un video di saluti, vi abbraccio tutti, a voi che avete iniziato a lavorare, a voi che non avete mai fatto le vacanze, a voi che siete appena tornati alle vacanze e un abbraccio a me stesso che finalmente me ne vado a riposare. Allora ragazzi, è stato un calciomercato veramente usurante e stressante, la giornata di ieri, venerdì 1 settembre, la ricorderemo per sempre. Io una giornata così, vi dico la verità, era da tanto tempo che non la vedevo, veramente è stato un calciomercato estivo di tutta questa estate che ci ha tenuto impegnati in una maniera incredibile. Devo fare una precisazione, mi ha infastidito il fatto che David de Lille ha rifiutato la proposta di prestito del Milan, però è giusto il ragionamento che fanno alcuni giornalisti, che naturalmente è un primo abboccamento che il Milan ha lanciato a David per poi prenderlo l'estate prossima. Perché io ho subito pensato che David dovrebbe andare simpaticamente a quel paese, visto che ha rifiutato il Milan, non è più degno di dover venire, però in effetti può essere un abboccamento, un inizio di dover parlare con il giocatore, con il giovane attaccante per venire a un Milan l'estate prossima. Perché lo ripeto, il grande attaccante arriva l'estate prossima. L'ho già detto in passato in video, lo ripeto ancora adesso. Bene, partiamo a razzo, facciamo un applauso da Bate, è la nostra primavera, perché ha vinto 4-1 contro il Bologna. Grandissimi, grandissimi, grandissimi. L'avete visto in copertina? Allora, praticamente il Milan ha presentato il girone di Champions delle partite che ci competono. E praticamente l'ha presentato su tutti i social, sulla pagina Facebook e quant'altro. Instagram, Twitter e tutto il resto. Ragazzi, vi voglio ricordare che nella sezione Community trovate gli indirizzi per il mio Twitter, per le reali notizie che arrivano dal mondo, e Instagram privato per le notizie del nostro Milan. Per cui vi vado a leggere adesso le date esattamente come si parte con le partite di Champions. Allora, il 19 settembre Milan-Newcastle alle ore 18.45. Il 4 ottobre Borussia Dortmund-AC Milan. Il 25 ottobre Paris Saint-Germain-Milan. Il 7 novembre Milan-Paris Saint-Germain. Il ritorno qui si sta parlando. E poi il 28 novembre Milan-Burussia Dortmund. E il 13 dicembre Newcastle-AC Milan. Ragazzi, è uno spettacolo, è un tour de force, soprattutto perché qualcuno di voi già lo sa, nel mezzo abbiamo anche i partiti importanti, perché noi praticamente partiamo a razzo con un calendario bestiale. Cinque scontri diretti. Il primo l'abbiamo fatto contro la Roma e l'abbiamo superato. Adesso ce ne vogliono altri quattro. Di noi del Milan nessuno può dire una mazza e dimostreremo con la nostra forza chi siamo, perché tutti gli altri devono stare solo zitti e basta. Dopo ieri abbiamo già dato un'avvisaglia a campionato. A tutti sti chiacchierone. Non sappiamo qual è il progetto Milan. Invece praticamente la nostra dirigenza ha fatto qualcosa di grandioso, perché ha comprato di botto tutti i giocatori nuovi subito, per doverli amalgamare subito all'interno della squadra e partire a razzo. Grandissimi, grandissimi, grandissimi. Tanto è vero che adesso, sentite qua, udite qua, no? Eh no, il girone di ferro del Milan, di questo, di quell'altro. Le società di bet e di scommesse oggi hanno dato praticamente le quote, scusate, devo sistemare ancora un po' la cam, per il nostro Milan. Milan, anzi, è la quota unica che hanno dato per il Milan per andare agli ottavi di Champions. Ecco, la cam l'ho sistemata. E questa. Danno il Milan a 1,90. Per cui è una buona quota, bisogna dire la verità. Non è una quota scarsa, perché gli altri passano tutti, vanno tutti gli ottavi. La Lazio, il Napoli, l'Inter. Chissà come mai per gli altri noi siamo sempre nei guai. Fanno tutti ridere. Vabbè, lasciamo stare. Allora, ragazzi, stasera sicuramente una partita da vedere. Io me la vedo. Vabbè, tu che vedrai il video qualche giorno dopo, non lo so. È già passata, questa cosa qui è già storia. C'è il Napoli contro la Lazio, domani l'Inter contro la Fiorentina e l'Impoli contro la Juventus, da vedere. Oggi mi ha colpito che Leao ha mostrato la sua caviglia in Instagram insanguinata dopo la partita della Roma. Alla faccia dell'arbitro lì, che ieri non fischiava nessun fallo contro Leao, non ho visto nessuna munizione per i fallacci dati sulla caviglia di Leao. Bravo, bravo, perché questo qua dopo il rigore che ci ha dato si è già subito e mi dito. A proposito, il rigore era sacrosanto, punto a capo. Il regolamento lo dice chiaro. Quello era praticamente, quella era un'ammazzata col piede del portiere della Roma sulla gamba del nostro Latusci, che c'è poco da dire. Grandissimo rigore tirato da Giroud, grandissimo gol fatto da Leao. Una cosa pazzesca, ragazzi. Vi voglio ricordare che Ballotoré ieri sul minuto finale del gong per il carciomercato che si stava chiudendo in Italia e che poi dopo successivamente si è chiuso in Inghilterra, ha trovato l'accordo col Fulham per andare in prestito secco, per cui Ballotoré non ce lo vediamo più tra le scatole, vedrete che poi sarà trovata una soluzione per non rivederlo più. Invece Orighi e il Nottingham Forest, che oggi il Nottingham Forest in Premier League ha battuto il Cessi, praticamente Orighi c'è il prestito con il riscatto, eventuale riscatto a 5 milioni di euro, proprio per non avere una minusvalenza. Una cosa, ritornando ancora alla nostra squadra, poi vi saluto ragazzi, poi me ne vado in vacanza, mi mancano poche ore alla partenza, è questa che praticamente, oltre alla base forte della nostra squadra, i titolari, tra i nuovi, tra i dieci nuovi giocatori presi dal Milan, mercato, voto al mercato nostro, dieci, la lode, ripeto, non la do solo perché non è venuto un attaccante, diciamo, più blasonato rispetto a Jovic, ma io do pienamente fiducia a Jovic, ci mancherebbe, però sui nostri dieci nuovi, grandissimi giocatori, tre fanno una differenza abissaria, love to shake, grinders e pulisici, ragazzi, io non ho più parole per questi giocatori, no, veramente, abbiamo preso dei giocatori pazzeschi, a quattro soldi un caccio, come si suole dire, rapporto qualità-prezzo, qualità, sì, qualità-prezzo, pazzesca, pulisici a 20 milioni di euro, una roba, love to shake, cos'è che l'abbiamo pagato, 15 milioni di euro, una roba, cioè quasi regalati dei giocatori, ma mi spiace dirlo, cioè ragazzi, però questa è la verità, da Cessi abbiamo fatto degli affari clamorosi, compriamo sempre al Cessi che ci conviene, giocatori pazzeschi, ragazzi, pazzeschi, io non ho più parole per definirli, veramente fortissimi, cioè qui c'è la consagrazione, nel mina questi ragazzi si consacrono, non c'è poco da dire, dai, su, è inutile, Reinders, ma avete visto che giocatore è questo qua, non si ferma mai, love to shake, ma sta acquisendo poi una classe, si muove, pulisici, boh, io non lo so, cioè ragazzi, boh, va bene, adesso sono curioso di vedere anche gli altri nostri giocatori, Musa, Ciuqueze, Ciuqueze, ragazzi, questo qui deve giocare a Ciuqueze perché è fortissimo, deve solo sciogliersi un attimino, ma vedrete che, ma è uno spettacolo, a proposito, oggi Spalletti si è presentato a Nazionale, sta iniziando a comporre le liste per un'importantissima partita che ci compete per andare gli europei, speriamo bene, Spalletti, la frase l'avete letta, una frase giusta, non sarò magari il migliore allenatore, ma sarò il miglior Spalletti per la Nazionale, ma meno male che c'è questo qua che veramente ci toglie le castagne, molto probabilmente dal fuoco, ragazzi, io vi mando un abbraccio, forza mina sempre e comunque ovunque, me ne vado anch'io a riposare, ci rivediamo, molto probabilmente se ci sarà modo, adesso vediamo la partita con la Macedonia, poi dopo c'è cos'è l'Ucraina, come sarà, la prima partita che faremo è fondamentale praticamente, adesso vedremo se ho voglia, faccio un video, se non ho voglia, niente, vedremo cosa combino, non so niente, se no ci rivediamo il 13 sera, oppure il 14 settembre, io vi mando un abbraccio, lo ripeto ancora, forza mina, sempre e comunque ovunque, è uno spettacolo ragazzi, è uno spettacolo, ciao